Consegne sempre più green all'Aquila. Sono infatti entrate in funzione 18 auto completamente elettriche per il recapito di pacchi e corrispondenza in città. Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere del centro di distribuzione di Centicolella, dove sono state installate anche 34 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kilowatt per la ricarica dei mezzi. Nelle prossime settimane è prevista la consegna di altri 16 veicoli elettrici. Quale potrebbe essere il vantaggio immediato? Il vantaggio immediato è quello legato prettamente proprio al green, perché noi con questa nuova fornitura che adesso è momentanea, perché noi andremo su 34 mezzi, adesso siamo su 18 mezzi, pensiamo già al momento di risparmiare su 3.000 chilometri che giornalmente produciamo il 30%. Ovviamente c'è anche un grande risparmio per quanto riguarda il carburante. Certo che sì, queste sono macchine full electric che sulle colonie nostre si caricano in 12 minuti per 100 chilometri e che chiaramente ci garantiscono proprio di avere impatto zero, quindi con un risparmio di circa 300 tonnellate mi sembra in termini di emissione sull'atmosfera. Noi abbiamo installato 34 colonnine che le potete già vedere, tutte perfettamente funzionanti è legate al nostro apparato di sistemi di pannelli solari che sono 2.000 metri quadri con una produzione giornaliera di 324 kilowatt in picco. Tra le altre iniziative a sostegno del risparmio energetico, l'installazione di nuovi sistemi fotovoltaici nelle sedi aziendali. In Abruzzo ad oggi si contano già nove impianti, di cui uno realizzato presso la sede direzionale di Centicolella dell'Aquila, è il più grande di tutto Abruzzo e tra i cinque più grandi in Italia ed è attivo dal dicembre del 2011.